Questo sondaggio io lo dedico tutta la mia squadra, perché da solo non potrei far nulla alla mia squadra di giunta, di consiglio e a tutti coloro che lavorano con noi. Io ho solo la fortuna di essere sotto il riflettore a fare il portabandiera, perché è un lavoro di squadra questo. Con un 75% di consensi Luca Zaia si conferma anche per il 2021 il presidente di regione più amato d'Italia, secondo l'annuale sondaggio pubblicato sul Sole 24 Ore e che il gradimento lo facciano le persone e non i partiti è confermato dallo scatto di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, del PD, che scalza dal secondo posto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a pari merito con il Campano De Luca. Forse proprio la gestione della pandemia, secondo Zaia, ha premiato il Veneto. Invece i cittadini hanno capito che tu lo fai col cuore, fai per scelte da buon padre di famiglia che possono piacere o non piacere. Questa è la soddisfazione che ci vedono su un sondaggio, che dà anche il grado di maturità di chi ti valuta. Tra i sindaci dei comuni capoluogo, se al primo posto c'è ancora Antonio De Caro, primo cittadino di Bari, è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro a balzare al secondo gradino del podio. Per trovare altri veneti bisogna scendere al 22esimo posto per trovare Jacopo Massaro di Belluno, 36esimo il sindaco di Treviso Mario Conte, guadagnando un punto e mezzo, passando dal 54,5% dell'anno scorso al 56% dei consensi di quest'anno. 30 posizioni più in giù si piazzano al 66esimo posto il sindaco di Verona Federico Sboarina e Sergio Giordani, primo cittadino di Padova, 70esimo il vicentino Francesco Rucco, 81esima posizione per il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo.